Assessore Tuoro, l'amministrazione comunale ha previsto una nuova entrata. Di che cosa si tratta, a chi è rivolta e da quando entrerà in vigore? Allora, è rivolta ai proprietari delle reti che utilizzano il sottosuolo del comune per trarne un vantaggio economico. Quindi parliamo di reti del gas, reti elettriche, reti telefoniche. L'amministrazione comunale entrerà in vigore dal 1 gennaio perché, avendo approvato il regolamento che va in Consiglio Comunale il 29, quindi entro il 30 settembre, la norma consente la sua applicazione in maniera retrattiva, quindi dal 1 gennaio. Nel regolamento saranno indicate le date dove verranno effettuate le comunicazioni alle grandi utenze che dovranno effettuare il pagamento. Verrà fatta una ricognizione delle reti per individuare le estensioni di queste reti con delibera di giunta che approveremo entro il 30 di questo mese. Definiremo quindi le tariffe. Le categorie sono già individuate a chi verrà applicata. Abbiamo detto sono le grandi reti, quindi i gestori delle reti dei servizi pubblici e inoltre quindi sarà applicate anche all'impiantistica pubblicitaria. È un canone quindi di natura patrimoniale che può coesistere per norma con la TOSAP che invece è la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e è suscettibile di essere applicata anche a tutte le attività commerciali tipo i bar che hanno i tavolini all'esterno, le edicole, i distributori di carburanti ma noi non abbiamo fatto questa scelta quindi di applicarla a tutti coloro che potevano quindi essere suscettibili di applicazione. Quindi si è voluto individuare come contribuenti, come coloro che devono pagare il canone solo, come abbiamo detto, i gestori delle reti e i proprietari degli impianti pubblicitari. Non sarà una tassa provvisoria quindi? No, no, il canone patrimoniale è un canone quindi previsto già dal 92 la legge di riferimento è il codice della strada che dà diritto quindi al proprietario della strada di chiedere quindi a chi utilizza il suolo e il sottosuolo e ne ha un vantaggio economico quindi ha un'attività e ne trae quindi un profitto di chiedere in cambio quindi un canone.